Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. E' armi sofisticatissime e li danno quindi anche gli istruttori perché altrimenti le armi di Geneschi se le frigge, ma non c'è altro. Poi ci sono i capitali, poi c'è la propaganda, poi gli Stati Uniti centri e c'è la... Entriamo anche noi, anche noi abbiamo dato armi, ma che certo le abbiamo dato. Lei ha parlato e io non l'ho... Mi scusi, mi scusi. Mi faccio il piacere di fare lo stesso. Non c'è stata nessuna concezione a quei settori amplissimi e qualificati del Paese reale, il quale, dati alla mano, dimostravano che la cosa era di tutto diverso. Laura Boldrini, ultimo dato alla mano... Ma mi fa il piacere di stare zitto. No, 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 però deve stare calmo, calma, calma, calma. Deve stare calmo lei perché ho solo chiesto la parola. Sarò serasico, mi faccia parlare. Come ha detto prima che è collerico, ce lo sta dimostrando, ma stia calma. Il 30 settembre, ultimo scorso, il Presidente Putin ha fatto un discorso molto importante davanti alla Duma, davanti al popolo russo, davanti alla comunità internazionale, perché c'erano anche diplomatici, c'erano la stampa, eccetera. In questo discorso lui ha ripetuto testualmente, io l'ho pubblicato sul mio blog, e del resto l'ambasciata russa vi può dare la traduzione giurata. Concluda. Quando la volete, ha detto testualmente, noi siamo disposti a sedere al tavolo della pace e lo abbiamo detto molte volte. Questa affermazione pesantissima e chiarissima non è stata mai contestata. Semplicemente chi non vuole conosce la verità, cioè Zelensky e il boss di Zelensky, che lo sta sostenendo in questa guerra, per motivi che appartengono... Va bene, allora, Cappellini e Boldrini, vi prego. Vuol continuare la guerra. Professore, ora si fermi però, si fermi un attimo, un po' per uno. E no, perché mi hanno... No, chiedo il recupero perché mi hanno intervistato, mi hanno più volte interrotto. No, 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 non è stato interrotto. Aspetti un secondo, non è che non parla più. Ha asserito di essere disposto alla pace. Va bene. Biden non ha detto una parola. Biden vuol continuare la guerra. Allora, Cappellini...